Hey Warriors! What's up? Mi nome è Sanzione e siamo nuovamente qui per un nuovo... Ed è entusiasmantissimo video gameplay Questa volta sarà un gameplay rilassante In cui rilasseremo la nostra anima Le nostre evozioni Le nostre... proprio... cose viscerali Con cui vorremmo uccidere qualsiasi passante che vi capita a tiro So che come me avete ormai... avete avuto sempre questa... Questa pista, sapete, quando girate per strada Che vedete tipo una di quelle vecchiettine che vi camminano davanti E non vi fanno passare perché camminano lente Vorreste solo prenderle e tipo massacrarle lì per strada E poi continuare Non lo fate perché ovviamente siete delle persone sane di mente Quindi niente, anche se in questo caso si parla di computer Si parla di quando per esempio il vostro computer smette di funzionare Oppure state scrivendo un documento Sono 12 ore che state a scrivere sta tesi, eccetera E salta la collerente Il vostro computer non ha salvato il file E quindi voi dovete riscrivere 12 ore di documento O state giocando, che ne so A... Butterfield Avete una serie di kill perfetto State facendo 20 a 0 Il vostro computer crasha E voi andate a fanculo con la... Con il ratio Questo è quello che succede E... Capita E so che vorreste disintegrare il vostro computer Non lo fate perché siete persone di una certa intelligenza E capite che non si può fare Perché se no vi costa 7 piotte e mezzo di computer un'altra volta Ecco perché io attento, ammazzato Già, mamma mia, ti avrei strangolato Però te lo voglio bene comunque Quindi Per noi arriva Wack your In questo caso Computer In cui Dovremmo fare delle cose al nostro computer Di cui non andiamo Ieri Se dovessimo fare sul serio Ma dato che è un gioco Eeeh Sti cazzi Quindi Benvenuto Finalmente un posto sicuro Dove Sfogare la tua rabbia Utilizza i tuoi strumenti nell'ufficio Per trovare tutti e un No Dodici I modi Per distruggere il tuo computer Grazie Il management Ok Andiamo Stiamo scrivendo il nostro documento Sto scrivendo il mio documento Oh Ehi Salve Ehi Come va Vuoi darmi un Qualcosa Un foglio Quindi Oh Cosa Pop Ok Ok Già Non funziona Oh Pop up Continua ad uscire a pop up Che carina Che 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 P Cop Ok Bene Fantastica Oh Immagino Una sua idea Bene Uno su do Dice Oh Abbiamo Il cosa Del pesce Quanto No Signorita Tranquilla Non sono Incazzata Con il mio Computer E Sono Che 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 Oh no c'è fesci, non posso, però aspetta, posso prenderti, si metto dentro un bicchiere dove morirei domani, ma per cazzo, ok, ok, mi adora comunque, perché sono il capo più figo di questo cazzo di pazzo, oh beh c'è anche il pezzo di quadro, perché, che ho messo qui, oh, oh, come, non me ne frega un cazzo, andiamo avanti, vabbè c'è, 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 venga, non ci aspetta, vedi, ahaha guarda che ho messo qui, non, non aspetta, non è possibile, non, non puoi! è una ok dammi queste si ti faccio vedere io sono sono oh mattia questo sei bravo a fare queste cose con le spade spero che lo sappia fare anche con l'altra spada ok colpisce ancora ok andiamo andiamo con la con la statueto ok aspetta un attimo guarda che idea del cazzo benvenuto ha una bella funzione non in casa oh oh Pooooool Oh Non fa amazzare la tua So sarà il modo in cui l'hanno fatto Ma è fantastico Oh mannaggia guarda che Te la faccio vedere Oh Complimenti Frouse In realtà è Frouse Ok poi esce Oh c'è anche un altro gazzetto qui Aspetta Ho lasciato qualcosa come Dei Mio Dio Abbiamo un nuovo Rabbino di Sherwood qui Incredibile C'è anche il cassetto Questo qui dietro Ok No cara E' un maniaco Non puoi fare Ah si E' E' Manson Però in realtà E' un tizio simpatico E non parlo del cantante Parlo di Manson Manson Quell'altro Wait Wait a second Fammi un attimo fare una chiamata Osama Sei tu Mi servirebbe una mano Non mi dire che c'è Oh Oh non era Osama E' quell'altro E' no E' Bush Ok E' sempre Bush Dannazione Ok Oh c'è anche la scarpa You win E' Oh Ok Anche Wackyourboss Doody.com Doodyman E' roba di questo genere Quelli siamo diventati Degli Tarzan Oh yeah baby Comunque Terminal di questo Be on play Spero che Walkyourcomputer Vi sia piaciuto Se avete avuto problemi Con il vostro computer Giocato a questo E' un antistress E' entusiasmante Ti amo di nuovo Crashami ancora E ti uccido Ma 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 Ci vediamo il passo Be on play E saprò il vostro RUX 91 Ciao a tutti Oh yeah Mi stanno cadendo Le cuffie Oh yeah